in questo video numero 40 dedicato all'analisi circuitale stiamo trattando i circuiti in regime transitorio qui ho riassunto quello che abbiamo fatto nel video 38 39 siamo partiti da un circuito nel video 38 rl in cui dopo aver magnetizzato l'induttore lo abbiamo fatto scaricare sul resistore r ho segnato diciamo i punti salienti quindi abbiamo scritto l'equazione della maglia tenendo conto che la tensione cavi dell'induttore è data dalla relazione l di dt cioè da l per la derivata della corrente rispetto al tempo abbiamo integrato l'equazione e abbiamo ottenuto che la corrente è funzione del tempo e vale v con s fratto r dove v con s rappresenta la tensione del generatore che in figura non ho disegnato per e elevato a meno r fratto l per t stesso discorso per il condensatore ho riportato la tensione ai capi del condensatore scritta come 1 fratto la capacità del condensatore per l'integrale della corrente nel tempo abbiamo scritto anche qui l'equazione risolta abbiamo ottenuto che i dt uguale v con s fratto r per e elevato a meno 1 fratto rc per t quindi formalmente abbiamo la stessa equazione l'unica cosa che cambia è il coefficiente dell'esponente dell'esponenziale che nel caso dell'induttore meno r fratto l e nel caso del condensatore meno 1 fratto rc allora vediamo di fare delle considerazioni proprio su questi coefficienti per quanto riguarda dall'induttore definiamo la costante di tempo induttiva tau l come l'inverso di r fratto l quindi l fratto r questa le dimensioni di un tempo che le dimensioni sono henry su home che equivalgono a secondi e ci chiediamo cosa caratterizza ora qui fatemi specificare che parliamo di dimensioni anche per quanto riguarda i secondi se t il tempo è uguale a tau l allora l'espressione della corrente assume una forma i dt uguale v con s fratto r per e elevato a meno r fratto l per l fratto r cioè l'esponente diventa meno 1 questo significa che la corrente vale v con s fratto r per e che vuol dire v con s fratto r per 0,367 che interpretiamo cioè dopo tau l secondi la corrente è diminuita al 36,7% del valore iniziale vale a dire del 63 per cento 63,3 per cento fatemi aprire una piccola parentesi perché se abbiamo ad esempio 4 quadratini e diminuiamo al 25 per cento significa che ne eliminiamo tre se diciamo che li diminuiamo del 25 per cento li ne eliminiamo uno solo quindi attenzione quando diciamo che la corrente è diminuita al 36 7 per cento del valore iniziale che in questo caso equivale proprio il 63,3 per cento ok mi sembrava ovvio ma volevo puntualizzarlo oltre a questo convenzionalmente si stabilisce che dopo 5 volte tau l il transitorio è estinto vedremo poi con la simulazione cosa significa sul grafico ma riprendiamo i valori del video 38 che avevamo dato a v con s r ed l avevamo v con s uguale 12 volt r uguale 10 ohm ed l uguale 10 milli r a questo punto possiamo calcolare tau l è uguale 10 milli r cioè l fratto r quindi 10 ohm e questo ci restituisce 0,01 fratto 10 cioè 0,001 secondi vale a dire lo evidenziamo un millisecondo e questo anche questo valore ci servirà per settare la simulazione con ltspice quindi dopo un millisecondo il valore della corrente è pari a e possiamo calcolarlo i di un millisecondo è uguale a v con s fratto r per e elevato a un millisecondo diviso un millisecondo con il meno davanti quindi meno 1 r qui scriviamo 10 ohm in questo citato può aver fatto il calcolo circa 0,44 ampere anche questo valore lo controlleremo sul grafico della simulazione calcoliamoci la diminuzione in percentuale della corrente che possiamo scrivere così questo è uguale a 1,2 ampere meno 0,44 ampere fratto 1,2 ampere e questo ci dà proprio il 63,3 per cento che avevamo visto teoricamente prima prima di vedere la simulazione per questo circuito il transitorio si considera estinto quando t è uguale a 5 volte tau L cioè 5 per un millisecondo cioè 5 millisecondi andiamo a vedere ora la simulazione abbiamo aperto ltspice di un schematic abbiamo bisogno di un resistore un induttore un induttore potenziale di riferimento colleghiamo gli elementi ora l vale 10 ohm l vale 10.000 r la direttiva di simulazione vi ricordo che è la punto tran cioè transitorio e siccome siamo sull'ordine dei millisecondi da quello che abbiamo calcolato teoricamente possiamo iniziare con 10 millisecondi di transitorio la posizioniamo qua un'altra cosa dobbiamo scrivere la condizione iniziale di corrente nell'induttore perché qui non abbiamo generatore di tensione ed è come se indicassimo che abbiamo appena switchato dal primo circuito in cui avevamo caricato l'induttore la corrente in L1 è uguale a 12 fratto 10 cioè 1.2 ampere e la posizioniamo qui possiamo lanciare la simulazione e vedere cosa succede quindi preleviamo la corrente dall'induttore e vediamo che succede quello che ci aspettavamo dal calcolo cioè la corrente passa da 1,2 ampere a 0 esponenzialmente decrescendo andiamo a vedere visto che la nostra costante di tempo era 1 millisecondo a 1 millisecondo dobbiamo trovare i 0,44 ampere che abbiamo calcolato e in effetti ci siamo vi faccio notare che a 5 millisecondi il transitorio si è quasi estinto del tutto siamo a pochi millesimi di ampere potevamo anche fermarci a 6 millisecondi a 6 millisecondi scusate come simulazione di transitorio quindi modifichiamo e andiamo a riavviare la simulazione ecco che la curva si è leggermente alzata così possiamo apprezzare meglio l'andamento bene ora facciamo lo stesso discorso per il condensatore qui definiamo una costante capacitiva costante di tempo naturalmente e la chiamiamo tau c uguale a r per c questa ha le dimensioni di on per farad che in questo caso anche come nel caso precedente equivale a secondi ancora cosa caratterizza questa costante se t è uguale a tau c allora la corrente i di tau c è uguale a v con s fratto r per e alla meno 1 e quindi abbiamo come nel caso precedente che la corrente è uguale a v con s fratto r per 0,367 e anche qui possiamo fare la stessa identica considerazione cioè dopo tau c secondi la corrente è diminuita al 36,7% del valore iniziale vale a dire è diminuita del 63,3% anche qui convenzionalmente si stabilisce che dopo 5 volte tau c il transitorio è estinto ebbene anche in questo caso riprendiamo i valori del video 39 qui ho dimenticato è estinto avevamo v con s uguale 100 volt r uguale 100 ohm e c uguale 100 microfarad calcoliamo tau c tau c è uguale a r per c quindi 100% microfarad per non sbagliare il calcolo consiglio di usare gli esponenziali quindi 100% è 10 alla 4 ma dobbiamo dividere perché siamo in microfarad per un milione e quindi per 10 alla meno 6 e questi sono secondi uguale 10 alla 4 per 10 alla meno 6 e 10 alla meno 2 sempre secondi il che significa 10 millisecondi bene anche in questo caso dopo 10 millisecondi il valore della corrente è pari a i di 10 millisecondi uguale a 100 fratto 100 per e alla meno 1 e in questo caso troviamo proprio 0,367 ampere cioè il 63,3% in meno del valore iniziale concludiamo anche qui che quando t è uguale a 5 volte tau c cioè in questo caso 5 per 10 millisecondi cioè 50 millisecondi il transitorio si considera estinto bene andiamo a fare la simulazione per concludere il video apriamo un nuovo schematico abbiamo bisogno di un condensatore un resistore ctrl r lo rotiamo la terra connettiamo abbiamo il valore agli elementi il resistore è da 100 ohm il condensatore è da 100 micro farad dobbiamo scrivere le condizioni iniziali e la direttiva di simulazione allora come condizioni iniziali dobbiamo imporre che sull'armatura del condensatore c'è la carica che ha depositato il generatore prima che il deviatore è stato posto sul terminale 2 quindi come facciamo a fare questo dobbiamo mettere un'etichetta di riferimento in questo nodo e poi scrivere che la condizione iniziale della tensione sul punto A è uguale a 100 volt ok per la direttiva di simulazione abbiamo bisogno di stabilire la lunghezza del transitorio siccome eravamo su un transitorio estinto sui 50 millisecondi iniziamo come abbiamo fatto nel caso dell'induttore con 10 volte tau c cioè 100 millisecondi e lo poniamo qua simuliamo vediamo la corrente attraverso il condensatore e qui non abbiamo una curva che si estingue si si estingue da meno un ampere a zero ampere questo probabilmente perché sapete che anche se non è indicata la polarità comunque gli elementi di LTSpice hanno una polarità proviamo a girare il condensatore quindi lo seleziono e control e per specchiarlo ma io devo ruotare anche riconnettiamo e simuliamo di nuovo ecco ora abbiamo la curva posta nel modo giusto facciamo la verifica a 10 millisecondi che è il nostro tau c siamo effettivamente a 0,36 e rotti ampere dopo 5 tau cioè a 50 millisecondi vedete siamo a 0,09 ampere cioè pochi millesimi di ampere quindi il transitorio è considerato estinto bene con questo video finiamo qui vi rimando al prossimo in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina a modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettete un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail, instagram, facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima